Amici di Prof.Digitale, ben ritrovati. Oggi parliamo di un altro strumento all'interno della pillola del Prof. Parliamo di uno strumento che in realtà conoscete di già, ma di una funzionalità che viene usata pochissimo da noi insegnanti e che in realtà è uno strumento veramente eccezionale per creare dei diagrammi. All'interno di questa pillola vi farò vedere come creare delle linee del tempo graficamente anche molto accattivanti utilizzando Google Slides, quindi Google Presentazione, uno strumento che è già disponibile all'interno dei vostri account Gmail o G Suite for Education, ma del quale non conoscevate forse questa nuova funzionalità. Quindi prima di vedere lo strumento in azione vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tanti nuovi strumenti. Bene, come vedete mi trovo all'interno di Google.it. La prima cosa da fare è quella di andare sui 9 quadratini che contraddistinguono le applicazioni e cercare Presentazioni. Se voi non l'avete come me all'interno delle applicazioni predefinite, vi basterà cliccare su Drive. Una volta all'interno di Drive vi basterà andare su Nuovo, Presentazioni Google. A questo punto si aprirà una presentazione vuota e è consigliabile dare subito un titolo alla vostra presentazione, quindi chiamiamola Linea del Tempo. Per eliminare i segnaposto che si trovano generalmente all'interno delle presentazioni vuote, basta cliccare sul bordo della casella di testo e poi premere Cancella sulla tastiera, quindi bordo diventa blu e poi Cancella sulla tastiera. Possiamo chiudere anche il menu dei temi. Ecco, a questo punto andiamo su Inserisci ed andiamo a cercare all'interno del menu il tasto Diagramma. Si aprirà la finestra dei diagrammi qua sulla destra del vostro schermo. Ci sono sei tipologie di diagrammi, sono Griglia, Gerarchia, Cronologia, Processo, Relazioni e Cicli. All'interno ad esempio di Griglia trovate altre sottotipologie di Griglia, quindi vi consiglio di dare un'occhiata poi a tutte le varie tipologie perché ce ne sono diverse e sono sicuro che troverete quella che fa al caso vostro. Ma abbiamo detto di voler creare una Linea del Tempo. Supponiamo di voler creare una Linea del Tempo per mettere in rilievo ciò che è successo durante i giorni della rivoluzione francese del 1848. Quindi all'interno di Cronologia andiamo a scegliere la Linea del Tempo che più ci piace. Io prendo questa con le linee viola e grigie. Viene inserita direttamente cliccando sull'immagine all'interno della vostra slide. Fate attenzione però. Qua vedete che c'è scritto 4 date perché io potrei aver bisogno di più date. Ad esempio potrei averne bisogno di 5. Cliccando come vedete sul menu a tendina sotto date vedete che nell'anteprima vengono inserite 5 date ma nell'immagine che ho io qui nella slide ce ne sono ancora 4. Dovete selezionare il numero di date che volete prendere in esame prima di inserirle all'interno della slide perché altrimenti succede questo. Guardate se io clicco si va ad aggiungere e non si legge più niente. Quindi prima selezionate il numero di elementi che andranno a comporre la vostra linea del tempo o il vostro diagramma e poi cliccate sull'immagine per averla direttamente all'interno della vostra slide. Andiamo ad inserire un titolo della nostra linea del tempo attraverso il tasto casella di testo. Prendiamo e disegniamo una casella di testo. Bene ho scritto la rivoluzione francese del 1848, seleziono il testo, vado a cercare un font un po' più accattivante, inserisco la grandezza del font. Se non vedete il tasto per l'allineamento lo trovate sotto i tre puntini di altro. Eccolo qua, appare e lo metto centrato. Benissimo. A questo punto dobbiamo andare a modificare le varie caselle e le varie date. Come si fa? È molto semplice, basta cliccare all'interno della casella per farla diventare editabile, come vedete, cancellare e poi iniziare a scrivere. Per le date è la stessa identica cosa, si clicca sulla data e poi si va a modificare. Se volessi avere una linea del tempo più grande, l'unica cosa che dovrei fare sarebbe questa, selezionare l'intera linea del tempo con il mouse tenendo premuto e poi vedrete apparire questi quadratini che servono per modificare come se fosse un'immagine unica. Andiamo a inserire la nostra linea del tempo e ad ingrandirla a piacimento. A questo punto possiamo lavorare meglio e possiamo inserire i nostri avvenimenti storici. Ecco fatto, ho inserito i miei avvenimenti storici, quindi ho preso in esame, come vedete si può scrivere non solamente la data, si può scrivere anche il giorno ed il mese, quindi 23 giugno, 24, 25, 26 giugno, cosa è successo all'interno dei vari giorni che hanno contraddistinto la rivoluzione francese del 48. Questa era una linea del tempo, però all'interno, come avete visto, del menu diagrammi ci sono tantissime possibilità. Vi faccio vedere all'interno di una slide vuota cosa si può fare. Ad esempio, quelli di processo, secondo me, sono molto interessanti. Questo della piramide è uno dei miei preferiti. Come vi dicevo, mi raccomando, all'interno dei processi non troverete la scritta date, ma troverete la scritta passi, ma si tratta essenzialmente dei vari elementi che potete inserire all'interno del vostro diagramma. Quindi sono diventati 4, qua ne ho 3, questo perché, vi ho già spiegato prima, dovete selezionare prima il numero di elementi che andranno a far parte della vostra immagine prima, appunto, di inserirli all'interno della slide. Anche questo del cerchio è molto interessante, ve lo faccio vedere più in grande. Sono convinto che, a seconda della materia che insegnate, qua troverete cose che fanno sicuramente al caso vostro. Ad esempio, questa degli insiemi è veramente molto carina. Quindi, come vi dicevo prima, perdete magari due o tre minuti per vedere cosa c'è all'interno del menu diagrammi e sono sicuro che troverete quello che fa al caso vostro. A questo punto andiamo però a esportare la nostra immagine perché il nostro obiettivo è quello di consegnarlo alla classe. Come facciamo? Potremo dargli la presentazione, ma sarebbe decisamente poco pratico. Cerchiamo di prendere questa pagina e trasformarla in un'immagine. Vado su file, vado su scarica come ed ecco qua, immagine jpeg, diapositiva corrente o immagine png, diapositiva corrente. Quindi potete scaricare la diapositiva corrente come se fosse un'immagine. Prendiamo il jpeg, che è quello più semplice, vedete che l'ha scaricato, lo apro e quello, infatti, è quello che viene fuori, è l'immagine così come io l'ho creata. Quindi abbiamo creato un'immagine che può essere condivisa con la classe attraverso i canali che usate generalmente. Altrimenti, come vi ho già spiegato, potete condividere questa presentazione con la classe attraverso il tasto condividi. Bene, spero che questa pillola sia stata di vostro gradimento. Conoscevate queste funzionalità di Google Presentazioni? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. L'appuntamento con le pillole del prof e con le recensioni del prof e molto presto cliccate e iscriviti sul canale per rimanere sempre aggiornati. Vi ringrazio, alla prossima!